Grazie a tutti. Per esigenze di trasparenza e informazione, l'amministratore di condominio è tenuto ad aprire un conto separato. Per aprire tale conto non ha necessità di specifiche autorizzazioni da parte dell'Assemblea, che invece servirebbero nella ipotesi di apertura di una linea di credito. Ciò allo scopo di evitare che possa esserci confusione tra il patrimonio del condominio e quello suo personale. Grazie a tutti.